Il metal è una musica che porta allegria Lo sai, i miei amici, dei miei vicini Tutti a casa mia, rimopa nel quartiere All'arrivo della polizia Let's go metal! A blu blu col d'un trato, primi porti di schingast a buio Non voglio l'avvocato, ma la demo delle faccio Signori della corte, confesso il mio reato Il capo dei metalli che io non l'ho mai ascoltato! Mi piace il metal underground I classici del morisod Mi piace il tempo e il fuori da Sei sai, sei da sopra il mondo rai Mi piace il metal underground Norvegia, Svezia e Villania Mi piace il bruto e il black and grey I rossi che è la vita E bentornati amici e amici Si stava meglio quando si stava meglio La stagione 4, puntata 3, da Dennis E da Stefano, sempre più veloce A un certo punto non si capirà più niente Dei numeri delle stagioni, ma Va bene così Ormai è questo approccio Che comunque ci regala grandi successi E grandi soddisfazioni Non sono l'unico Stefano di questa puntata È già successo in passato Adesso però, francamente, in questo momento Non ricordo quali altri ospiti Stefano abbiamo avuto Salutiamo Stefano da Genova Stefano Cavanna Ciao Ciao a tutti Tutto bene? Sì, certo Anzi, è assolutamente un grande piacere Poter partecipare al vostro podcast Perché è sempre ritenuto molto interessante Quindi esserne ospite Per me è un onore Oltre che una buona occasione Per parlare un po' di musica Che non guasta mai Grazie Va bene Tu comunque non è che poi Tu hai una qualifica molto specifica Dobbiamo dirlo subito Perché un paio di anni fa Tu hai fatto uscire un libro Che si chiama Giusto per avere un titolo Da portarsi sul comodino Il suono del dolore Ecco Che ovviamente tratta di power metal Giusto, sì? Sì, esatto Di power metal Ma in realtà power metal È anche musica latina sostanzialmente Ok Allora, adesso Seriamente No Chi ti ha fatto fare Di fare un libro Sul funeral doom E compagnia bella? Allora Chi me l'ha fatto fare È stato Indovinate un po' La pandemia Nel senso che Alla fine del 2019 Io all'epoca lavoravo ancora Ora sono felicemente pensionato Ma a quei tempi Stavo ancora lavorando E ovviamente si lavorava In smart working E tempo libero Ce n'era Perché poi insomma Tra una cosa e l'altra Il lavoro era diminuito Eccetera eccetera E quindi Mi aggiravo Sul web Per cercare Qualche nuova band Funeral doom Che era un genere Che in quel momento Stavo seguendo molto E niente Provavo a Rendermi conto Se c'era qualche pubblicazione Potesse anche aiutarmi A fare un lavoro di sintesi In tal senso E cosa è successo? Ho scoperto che Non era mai stato fatto nulla In passato Ma non in Italia Proprio al mondo Salvo qualche Articolo un po' più strutturato Da parte di qualche web zing Ce n'era una brasiliana Per esempio Che aveva fatto Un dischetto lavoro Al che mi sono detto Ma proviamo a buttare giù Un'idea di libro Ma quasi Per gioco E ho cominciato a raccogliere dati Eccetera eccetera E poi ho cominciato a scrivere E quando ho cominciato a scrivere Mi sono reso conto Quasi con spavento Che oddio Sto scrivendo un libro Insomma Ci ho messo Almeno un anno Un anno e mezzo Per finire tutto Dopodiché ho contattato I ragazzi di Tsunami Senza molte speranze Di far sì che Il libro venisse pubblicato Perché oggettivamente Io intanto Ero e resto Comunque Un illustre sconosciuto Nell'ambito della scena Perché comunque Io non ho mai Non ho mai suonato E l'unica cosa Che ho fatto in passato Questo secolo Aveva scritto molte recensioni Prima in una webzine Di nome In Your Eyes E poi averne fondata Una Che si chiamava Metal Eyes Che aveva a che fare Ovviamente con la webzine Madre Che è andata avanti Per circa tre anni Però Non ho certamente Un nome conosciuto Nella scena Di conseguenza Non mi portavo neanche Dietro un background Che Non so Tipo quello di Stefano Cerati Tanto per citare Un nome un po' più noto E invece Loro mi hanno dato fiducia Ovviamente Facendomi Non dico Riscrivere tutto il libro Ma quasi Adattandolo maggiormente Alle esigenze Della scrittura Di un libro Perché io venivo Dalla scrittura Di recensioni Che come Voi ben sapete È tutt'altra cosa Perché Chiaramente Scrivere un libro È un'altra faccenda Ma comunque Riuscito poi In questa impresa Abbiamo stabilito Una possibile data di uscita Che è stata poi Il febbraio Del 2023 Cioè quindi Un po' più di un anno e mezzo fa E E da lì Sei già milionario Giusto sì Perché Con i diritti Di un libro Sul funeral Hai svoltato Ho svoltato Diciamo che Ho sempre pensato Che se avessi avuto La fortuna Di nascere In un'altra nazione Tipo la Finlandia Ne butta una a caso Non dico che Sarei milionario Però Sicuramente Ne avrei venduto Molte coppie Qua In Italia La faccenda Come ben immaginate È totalmente diversa Credo che comunque Fate le debite proporzioni Dal punto di vista Del Diciamo Come dire Del bacino d'utenza Che possiamo avere Qua Qua in Italia Il libro Ha venduto abbastanza Perché Per quello che so Le 500 coppie Che erano state mandate In stampa Dovrebbero essere andate Pressoché esaurite Che Sembra un risultato Ridicolo Se lo Paragoniamo Ai grandi numeri Che raggiungono Magari Libri Di altri generi Ma in realtà È un numero importante Proprio perché È collegato A un sottogenere Come il funeral Che oggettivamente In Italia Non è Tra i più seguiti E consideriamo Che 500 coppie Di un libro Del genere Vendute in Italia Le possiamo paragonare A un concerto Sempre funeral Che richiama Due trecento persone Ecco I numeri sono questi Sostanzialmente E però Devo dire Che A margine Del discorso Diciamo Prettamente Nazionale Ci sono stati Dei scontri Importanti Anche all'estero Hanno comprato Il libro Molti musicisti Soprattutto Anche stranieri Ripromettendosi Di tradurselo Buona fortuna Perché 320 E passa pagina A tradursi Senza L'ausilio Di Un traduttore Che ci può essere Su Testo Che trovi Su web Insomma È una bella impresa Però devo dire Che Diciamo I riscontri Sono stati buoni E sono contento Sul discorso Del titolo A cui facevi Riferimento Tu prima Denis Ebbene Io in realtà Lo volevo intitolare In maniera Molto più Come dire Un po' meno Non so Un po' meno Incisiva Da un punto di vista Della lingua Tipo un classico Murful sounds Che poteva essere Un po' più leggero Anche se magari L'inglesismo Non era un granché Ed era Che peraltro Era anche il nome Del Prima del blog E poi della pagina Facebook Che ho gestito Per un po' di tempo Nella quale Scrivevo un po' di recensioni Appunto Sul genere E che adesso Un attimo Ho tralasciato Poi spiegherò Eventualmente Il perché Ma loro Mi hanno Suggerito Di utilizzare Il titolo In italiano Cosa che peraltro Ci sta Però Mi rindo conto Che sia un po' pesante Ecco Il suono del dolore Fa pensare Oggettivamente Beh allora Considerato che Tifi Genoa Ci può anche stare Insomma Sicuramente In questo momento Anche molto di più Eh sì Perché io sono Io Non sono Non sono proprio Un tifoso normale Sono un tifoso Molto viscerale Anche se non vado Allo stadio Proprio perché Non riesco A sopportare La tensione Che c'è lì dentro E in questo momento Le cose non vanno bene Anche perché Pensavamo di esserci Finalmente liberati Dalla sfiga Che ci attanaglia Da anni E anni E anni E invece Abbiamo scoperto Che anche adesso Eravamo in mano Dei cialtroni Che non hanno più Una lira Anzi un euro Ma dai Sì Siamo Siamo in mano A una Eravamo in mano A uno di questi Fantomatici fondi 777 Che è subito Dopo Il 666 Se fosse stato Almeno 666 Diciamo vabbè Almeno Almeno più divertente Questo era 777 E partners E i partners Probabilmente Sono scappati tutti E niente Ci siamo ritrovati Che questi Ci sono indebitati Fino all'osso Sono stati presi Sotto controllo Da Un altro fondo Che Verso il quale Erano creditori Questi qua Hanno chiuso I rubinetti Per cui Siamo passati Dall'essere Una squadra Che quest'anno Poteva Mantenendo giocatori Migliori Puntare Non dico Alla Champions League Ma a un tentativo Di conference Ad essere I principali candidati Alla retrocessione Mentre L'altra sponda Che invece Notoriamente Che già chiamare L'altra sponda In un mondo Opposto E' un'offesa Comunque Invece Notoriamente Che sono stati Sull'oro del fallimento L'anno scorso Invece Quest'anno Riscano di venire In A Quindi probabilmente L'anno prossimo Continueremo A non fare il derby Cosa che peraltro Non mi dispiace Visto gli ultimi esiti Perché noi andremo in B E loro torneranno In A Pazienza Chiusa la parentesi Calcistica In cui tu non te ne sei Reso conto Però chi ci ascolta Adesso Comperà con me Nel momento in cui Tu parlavi di Funeral Doom Avevi una cadenza Di X parole Al minuto Quando sei partito Col Genoa Avevi X per 2 Al minuto Cioè proprio Hai accelerato il ritmo Per far Direi che fai bene A non andare allo stadio Guarda Va bene così Perché parlando di Funeral Doom Per definizione Devo essere più lento Anche perché Insomma Un 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 BPM Al minuto E quindi Non esageriamo Sì Diciamo che Allora Quella è una passione Te la porti dentro Non te la leva nessuno Quella Tentativo di maglietta Che si vede qua sopra In realtà Quella è una maglietta Che era stata regalata A mia madre A mia madre Che gestiva un circolo Da Dei ragazzi Che frequentavano Il circolo Che tra l'altro Erano quasi tutti Sanduriani Le avevano regalato La maglia personalizzata Con il suo nome E come numero L'anno di nascita L'ho conosce Quando mia madre è mancata Cinque anni fa Ho deciso di appendermela Qua dietro Un bel ricordo suo Lei era più Allora se io sono tifoso Lei era potenzialmente Un ultras È una cosa A cui tengo molto E torniamo al discorso Invece del libro Che penso sia l'argomento Che interessa Un po' di tu Che ci ascolta Le sfighe del Genoa Per carità Possono essere interessanti Uno che ci ascolta Adesso che è contentissimo È Daniele Puguerone Che è sempre stato Tifoso del Genoa Adesso lui sta in Svezia Quindi sicuramente A lui interessano Le miserie Della volta a squadra Accidenti Ma allora Vedo Una domanda proprio così Poi magari chiudiamo Il capitolo Genoa Che comunque si Ha delle connessioni Con il funeral doom In questo momento E il fatto che adesso È arrivato anche Balotelli Rende la cosa Un po' più power metal O forse ancora più Il funeral doom Di quanto lo fosse In precedenza Poi bisogna vedere Chiaramente Voi avete la speranza Giustamente Che un po' Questa cosa Possa Creare delle vibrazioni Allora Io ho pochissima fiducia Nel buon Mario Perché Ha già dimostrato In passato Che non è più affidabile In tutte le sue Precedenti esperienze Anche le ultime Quando addirittura Era andato a giocare A casa sua A Brescia Non so se ve lo ricordate Era partito benissimo Quindi Quello che succederà Probabilmente Che ora lui Parterà benissimo Magari giovedì Giochiamo contro La Fiorentina Capace magari A fare A entrare E fare magari Neanche un gol Però poi Tempo Tre Quattro Cinque partite Poi Li si spegne Qualche lampadina Probabilmente Vai a capire Cosa frulla Nella testa Di questo ragazzo E niente E probabilmente Non sarà utile Alla causa Spero di sbagliarmi Io ho già fatto La Cassandra Prima dell'inizio Del campionato Perché quando È stato venduto Goodmusson Alla Fiorentina C'erano tutti Che sostenevano Ma non c'è problema Arriverà il sostituto E io ho scritto Un post su Facebook Dicendo Ragazzi Il sostituto Era oggi La casa della salute A Genova Si chiama Pinamonti Perché se tu vendi Un giocatore E il giorno stesso Ne arriva un altro A fare le visite mediche Il sostituto è quello Capite bene Che con quello Si fa poca strada Benché sia un buon Centravanti E quindi Io credo Che non ci sia Molto da aggiungere Al riguardo Ci ho detto Power Metal No Più Trash Metal Ma Trash Nel senso Senza l'acca È proprio Un po' sì Un po' sì Un po' sì Vabbè Molto velocemente Visto che siete voi Due gli esperti Adesso Mentre Stavo pensando Stiamo scacciando Tutto quel pubblico Che odia Esatto Ruotolo Una delle ossature Del Genova Che fine ha fatto Do sta Ruotolo Ruotolo Ti dirò Non so quest'anno Ma l'anno scorso Ha guidato La nostra Under 18 Al titolo Nazionale Ha vinto Il campionato Nazionale Come allenatore Dell'Under 18 Ed è un ottimo Allenatore Anche se Uno non ci avrebbe Scommesso Un euro Perché Come giocatore Non era brillantissimo Dal punto di vista Tecnico Però Era il classico Generoso E normalmente Questi poi diventano Anche i migliori allenatori In fondo Era un centrocampista Di quelli Belli scamponi Ve lo ricordo Sì bravo Esatto Era un 6 e mezzo Fisso Il problema Era la munizione Quindi Non portavi mai a casa Niente al fantacalcio Per i fantacalcisti Non era il massimo Perché faceva anche pochi gol Tra l'altro Quindi Come centrocampista Non rendiamo Torniamo al funeral doom Ci hanno chiesto I nostri ascoltatori Più volte Di fermarci Di soffermarci Su doom Funeral doom E cosa del genere Allora Visto che ci sei tu Allora Intanto Dai Black Sabbath Quindi Dal doom rock Dove doom Fondamentalmente In quel momento lì È una definizione Più di stile E di tematiche Più che Di strutture musicali Vere e proprie Si passa Quindi Black Sabbath Pentagram Coven E tutta quella roba lì Che arriva anche Dal rock Dall'hard rock E dal rock psichedelico Pian piano Si sposta Sempre di più E con gli anni 80 Si arriva con i candermas Ad avere un genere Vero e proprio Che è il doom Questa roba qua Si estremizza E diventa Il funeral doom Dopodiché Si estremizza Ancora di più E si arriva al drone E a tutte quelle robe Insomma Che Allegria Allora Io ti vorrei chiedere Dove tracci tu il confine Tra ciò che è doom E funeral doom Per dire I primi saturnus Nel tuo libro Non mi pare che ci siano Però io considero Paradise belongs to you Abbastanza una mazzatina Allora Perché i tergoton Ci sono E i saturnus no È possibile pensare I primi anatema Come in qualche modo collegati E la roba dei Peaceville 3 In qualche modo collegata Anche Insomma Dove lo tracci il cancelletto Questi stanno fuori E stanno dentro Soprattutto quando hai scritto il libro Ma infatti Una delle cose più difficili È Come sempre La catalogazione Ne parlavo ancora Domenica scorsa Di un libro Sempre tsunami Questo Relativo Allo Stoner Di Davide Pansolin E parlavo con Massimo Perasso Che è il gestore Di Flamingo Records A Genova Che appunto Si poneva il problema Dalla catalogazione Dei dischi All'interno del negozio Suddividendoli per genere Perché trova sempre qualcuno Che contesta Come sono stati Appunto catalogati E la stessa cosa Succede anche Un confine Abbiamo un problema Ok sei tornato No guarda Il classico spam Che è arrivato sul cellulare La chiamata Era quello il problema E ho subito Cazziato Allora Perché Fargli dei Saturnus Allora I Saturnus Io li esclusi A prescindere Perché io li considero Death Doom O Doom Death Come vogliamo chiamarli Che Teoricamente Nasce anche Leggermente prima Rispetto al Funeral Doom Perché Sempre nel nostro giochino Allora ti faccio Le pulci Allora perché ci hai messi Winter No 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 Fermo Ma io li Winter Non li inserisco Come Come Band Funeral Doom Io li Winter Li metto come Band Che potenzialmente Ha influenzato Le band successive Ma io non li inserisco Tra le band Funeral Doom Così come Non ci ho inserito In disembowelment Così come Non ci ho inserito Gli stessi anatema Alla stessa maniera Soprattutto per quanto riguarda Un album come Serenades Proprio E non ci inserisco Cathedral Che ho citato Invece come autori Di un album Importante Per eventualmente Per lo sviluppo Del funeral Come Forest of Equilibrium Perché sono Assestanti Sono Anche precedenti Da un punto di vista Musicale Rispetto a quello Che è il primo Album Funeral Secondo me Mai Inciso Che è Strings from The Evans Dei Tergoton Allora Cosa differenzia Il Death Doom Dal Funeral Doom Secondo me È proprio La struttura musicale Cioè La sua Ulteriore Esasperazione Dal punto di vista Della lentezza Cioè Mentre il Death Doom Comunque mantiene Quelle spuriate Death Metal Che sono all'interno Dei brani E comunque Una ritmica Sicuramente Più incalzante Il funeral Non c'è A salvo Vabbè Chiaramente salvo Rare eccezioni Per esempio Lee Winter Che io ovviamente Cito Secondo me Sono stati La massima Influenza Degli Evoken Che sono la migliore band Funeral Doom Statunitense Però se tu senti Gli Winter E gli Evoken Ti rendi realmente Conto della differenza Che c'è tra Il Death Doom E il Funeral Doom Però mi rendo conto Che sia Difficile tracciare Questa Questa linea di confine È stata la cosa Più complessa Nella scrittura del libro Te lo posso garantire Perfetto Ok E Cioè Quindi questo Sta diciamo Il processo Che però Ti ha portato A scrivere Questo tipo di libro Cioè come Cosa volevi fare Già Da dove sei partito Dalla definizione Dal Dal decidere Cosa era dentro E cosa è fuori E poi in che modo Diciamo Hai proseguito il lavoro Allora L'idea di partenza Era quella Di fare qualcosa Che avrei voluto leggere io Ovvero Trovare un compendio Una guida Che Un qualsiasi Appassionato Potesse leggere Per cercare Di scoprire Che cos'è il funeral doom O ancora meglio Di trovare Magari Nuove band Se già lo conosceva Io sono partito Facendo una ricerca A 360 gradi Per tutto il pianeta Praticamente cercando Ogni tipo di notizia Riguardante Band Funeral In qualsiasi parte Del mondo Ho raccolto Circa 500 500-600 band Poi Le ho scremate Perché poi Molte che erano Accreditate Come band Funeral In realtà Non lo suonavano affatto Mentre invece C'erano altre Che non erano accreditate Che in realtà Lo suonavano Cito per esempio Un caso Come quello Degli abandon Svedesi Che per lo più Sono considerati Un gruppo Sludge doom E poi anche qui C'è sempre A fare il discorso Del confine Tra lo sludge doom E il funeral doom Perché spesso e volentieri Poi Le due Le due anime Coincidono E non è così semplice Riuscire a scindere Chi sia da una parte Chi sia dall'altra Però Secondo me Il loro ultimo lavoro The Dead End Che è stato pubblicato Postumo Dopo La morte del cantante Secondo me Un album Funeral doom A tutti gli effetti Forse è anche Uno dei più belli E quindi Mi sembrava giusto Inserirli all'interno Del libro Benché Sostanzialmente Da molti Non siano considerati tali Poi Chiaramente Fatta tutta Questa scrematura Mi sono rimaste Circa una metà Di band E poi Alla fine Quelle che vengono citate All'interno del libro Sono circa 250 Di cui Almeno una metà Trattate in maniera Un po' più Un po' più Esauriente Approfondita Altre magari Invece citate In maniera Un pochettino Più sintetica E qui comunque La decisione L'ho presa io Devo dire Non Me ne assumo Tutte le responsabilità Ovviamente Ho messo in preventivo Il fatto che Molti mi avrebbero potuto Chiedere Ma perché Hai messo La band X Perché non Ci hai messo La band X Quando L'anno scorso Ho preceduto Te Dennis Sul palco Del festival Di Pinerolo Ed ero stato Intervistato A riguardo Da Valerio E anche lui Appunto Mi ha chiesto Ma perché Non hai inserito Una band Come ad esempio I giapponesi Corrupted Che io Invece Consideravo Sostanzialmente Più una band Sludge Anche se era Una forzatura Sotto certi aspetti Perché del funeral Avevano poco Perché poi Sostanzialmente Il funeral Deve avere anche Un'anima Non dico melodica Però comunque Un minimo Atmosferica Perché se no Altrimenti Poi andiamo a scadere O nel drone Che ovviamente L'abbiamo citato prima O se no Nello sludge Deve essere Una musica Che ti Come dire Che Ti deve far Immergere Intanto Nella Cuevolezza Della tua Caducità Terrena Scusate Se uso questi termini Ma questo è E E deve avere Anche un effetto Catartico Perché se non Ha l'effetto Catartico Allora è inutile Perché Fondamentalmente L'ascolto Di musica Di questo tipo Che ovviamente È musica triste Perché parli di morte E quindi Di conseguenza Difficilmente Potrà essere Allegra Ha un effetto Catartico Perché Ha un effetto Algebrico Meno per meno Fa più Quindi se tu Fai ascoltare Della musica triste A una persona In quel momento Sta male È probabile Che ottieni Un effetto Invece Catartico Quindi lo riesci A sollevare Da Almeno parzialmente Dalle proprie Sofferenze E non è detto Che invece succeda Se tu fai ascoltare Musica molto triste A una persona Che sta bene O viceversa Musica allegra A uno che sta male Probabilmente La situazione Resterà immutata E adesso Nel mio caso Se io Sono in un momento O no Mi fai sentire Della musica allegra Sicuramente La mia situazione Mentale Peggiorerà Ulteriormente E comunque Questa cosa qua Spiega Stefano Era con me Stefano Lolli Era con me In totali occasioni È Il classico effetto Che fanno Gli skepticisi Ma in un festival In cui Sono le prime 70 80 persone Che sono là E sembra il momento Più alto Della loro vita Dopodiché Detero C'è gente Che dopo una mezza canzone Si gira con la birra in mano E fa Eh ma che cazzo E se ne vanno È esattamente quello O ci entri O non ci entri Fine Stiamo parlando In esibizioni In cui loro Hanno dimostrato Qual era la loro Caratura artistica Soprattutto perché Non hanno fatto nulla Per cercare di compiacere L'audience Hanno fatto un set Che era Di una difficoltà Estrema Da un punto di vista Della percezione Perché Hanno rinunciato Anche a suonare Forse Alcuni brani Dell'ultimo disco Di Companion Che erano Decisamente Tra i più orecchiabili Mai composti Dagli skeptici Nella loro storia Li hanno Bellamente ignorati E questo Dimostra anche Il fatto Che Loro Se ne sono Strafregati Dell'essere Un po' più Come dire Accessibili Sono saliti Di sopra Hanno fatto La loro esibizione Secondo me Grandissima Chiaramente Molto difficile Mi rendo conto Che Rispetto ai Kursk Che hanno suonato Prima Era tutta Un'altra faccenda Ma qui parliamo Di due Generi musicali Completamente diversi I Kursk Che all'inizio Potevano comunque Essere Una band Boom Di un boom Molto rallentato Adesso Con gli ultimi Lavori Hanno assunto Questa vena Molto più epica Che chiaramente Li differenzia In maniera Enorme Da una band Come gli skepticism Tanto che Appunto Probabilmente Proprio questa Differenza Tra Le due band È stata Interessante Però indubbiamente Credo che abbia Un po' Spiazzato La parte Dell'audience Però Secondo me Il Compto del film Era anche quello Un po' Di colpire Di scioccare Comunque Di far pensare E di Come dire Di dare Una lettura Diversa A quella Che è La normalità Della Della nostra vita Cioè A farci piombare Comunque In un baratro Dal quale Poi c'è la possibilità Di uscire Solo Ascoltando Musica Quindi Chiaramente È un qualcosa Ovviamente Di allegorico Perché Nessuno Vorrebbe mai Finire In un baratro Spinto Da qualcosa Che accade Realmente Se è la musica Può appunto Diventare Anche una Buona maniera Per Come dire Così Trovare anche Consolazione Quando invece Arriveranno Veramente In momenti In momenti Difficili In questo caso La musica Può davvero Aiutare Molto Però Anche È vero Che Attenzione Ci sono persone Che mi Dicono Se io sono Un po' Depresso E ascolto Sta musica Qua È molto Peggio Però Non sono mai Appassionati Di funeral Sono persone Che ascoltano Magari Altri generi Musicali Sempre Legati Al metal Che però Rifiutano A priori Questo tipo Di approccio Proprio Perché temono Che la loro Condizione Depressiva Possa Ulteriormente Peggiorare Secondo me Sbagliano Però Non mi sento Di dare Loro Tonto Effettivamente Fa parte Di quello Spettro Di cose Che Rientra Nell'individuo Ognuno Come vive Le cose Soprattutto Come vive Il rapporto Alla musica Quindi Tu mi dici Tu hai scelto Di fare un libro Sul funeral Doom Immagino Sia Chiaramente Uno Il tuo genere Preferito Sicuramente Tu condividi Questa Questo tipo Di emotività Cioè Nel senso Sei molto Connesso Con questo Genere Ma Lo ascolti Anche quando Sei Tra virgolette Se funziona Anche quando Stai bene Sì Se ti piace Tanto Per poter Fruire In maniera Ideale Di un genere Come il funeral Doom Ma non solo Comunque è necessario Avere una certa Sensibilità Io mi ritengo Una persona Dottata di una Sensibilità Abbastanza Abbastanza Elevata Che mi Porta A emozionarmi Facilmente Ecco Anche di fronte A situazioni Magari dove Molti invece Non si emozionerebbero Questo Sicuramente È un aspetto Che aiuta A recepire Certi tipi di musica Ad esempio Questo è un periodo In cui Tutto sommato Non posso lamentare Di come mi vanno Le cose E proprio oggi Anzi In questi giorni Stavo ascoltando Un bellissimo disco Di funeral doom Uscito Proprio Di recente Incredibilmente Da parte di una band italiana Perché Dico incredibilmente Perché In Italia Non è che abbiamo Molti Molti esempi Di funeral doom Di altissimo livello Perché Se tu li ha I Russell Getty Che sono stati Probabilmente I propulsori In Italia Eh? Sì Sono morti Sepolti E a quanto mi risulta Berchi Non ha nemmeno voglia Di ristampare L'esperienza Russell Getty Lo dice sempre No perché sostiene Sostiene Che quell'album Fosse una schifezza Lo dice in maniera Abbastanza esplicita Dice che è stato Prodotto male Che comunque Non rispecchiava Assolutamente Quello che poi Comunque È diventato Lui come musicista E rispetto Assolutamente Alla sua opinione Peccato che Si è diventato Però un album Di culto Anche all'estero E viene considerato Uno dei massimi Esempi Del funeral doom Degli anni 90 E Ci metto dentro I consumatum est Che credo Potrebbero anche Riprendere L'attività Anche lì Un solo album Ma molto bello E I void of silence Che sono probabilmente La migliore band Funeral italiana Anche se poi Forse considerarli Funeral A volte può essere Una forzatura Ma sono sicuramente La band più Quotata Hanno fatto Quattro dischi Uno più bello Dell'altro E ho scoperto Questi Embrace Smile ruin Napoletani Hanno fatto uscire Questo album Da pochissimo tempo Che si intitola Camarathon E' veramente Stupendo Proprio un bellissimo Esempio di funeral doom Melodico Atmosferico Come in Italia Probabilmente Non si è mai sentito Di questo tipo Riprendendo quindi Gli insegnamenti Diciamo Di band Di funeral doom Appunto La sua frangia Più melodica Atmosferica Come Comatose Florida Nel death doom Considerate che Sono usciti E usciranno Comunque A brevissima Distanza L'uno dall'altro Un bellissimo Album Degli arsonirica Un ottimo Album Dei for the storms Un altro Ottimo album Dei ghost art nebula Sta per uscire Il nuovo Dei tetra E credo Che a dicembre Esca anche Il nuovo Dei the foreshadowing Cioè Tutti Praticamente Nel stesso momento Che anche Io ragazzi Però se vi metteste Anche un attimo D'accordo Tra di voi Inevitare Di far uscire Tutto insieme Adesso Porta pazienza Pure te Cioè Italia E mettersi d'accordo Non sono due cose Che vanno insieme Ok Ma in ogni E in nessun settore Quindi Ci sto dentro Non facciamo Queste cose Che non si possono fare Vai ste Esatto E poi Sabina Bene Forse anche Per la questione Diciamo Stagionale Cioè Se devi far uscire Un disco Doom Death Dici Fallo uscire a maggio Effettivamente Sembra un po' Buttato via Quando in realtà Insomma Chi piace L'autunno si addice Inevitabilmente A queste sonorità C'è poco C'è poco da fare No Quindi appunto Come tornando Alla tua domanda iniziale Credo che Lo scopo È quello di emozionarsi Ascoltando musica E io Chiaro Ma non è che mi emoziono Solo sentendo Il funeral doom Sono stato Due domeniche fa A vedere il concerto Di Nick Cave A Milano E garantisco Che Di emozione Ne ho fatto un bel pieno E quindi Siamo ben lontani Ben che Comunque Parliamo sempre Di un artista Che oddio Non è che faccia musica Particolarmente allegra Ecco No Però ad esempio Io sono nato All'inizio degli anni 60 E inevitabilmente I miei primi ascolti Sono stati Il progressive rock E io Ovviamente Comunque Ho nel cuore E nel mio Background musicale Band come Genesis E King Crimson E da lì Non scappo Cioè Sono sicuramente Gruppi che Mi hanno segnato La vita Dal punto di vista musicale E E mai lo rinnegarò Anzi Sono ben contento Di ascoltarli Anche spesso Volentieri Però anche qui Parliamo comunque Di musica Che Non è quasi mai Troppo propensa A un'allegria Insensata Ecco E comunque È sempre musica Introspettiva Sì sì Però più della malinconia Non vanno Non vanno in là I miei Genesis I miei King Crimson Più della malinconia Non Sì sì Non buttano Sì ma Però È un'esasperazione Un po' Della malinconia Se vogliamo Sì certo È malinconia Ma Sì Certo Il metal in sé È un genere di musica Che porta tutto all'estremo La violenza La velocità Il dolore Cioè tutto nel metal È preso ed estremizzato Quindi ha un suo senso Quindi ha un suo senso E comunque dai Spostiamoci un po' Più indietro Visto che sei un ascoltatore Di musica Univoro Di questi anatema Che tornano A ranghi separati Di questi My Dime Bride Che litigano E ma non litigano Di Aaron Di Aaron Dei My Dime Bride Che fa il disco Dei Paradise Lost Sì Mezzo elettronico Dai Indulgiamo In cose un po' Tristi Di vario genere Beh è chiaro Anche tu Stefano Dimmi la tua Che qua è Proprio casa tua Sì No no Vai adesso Vado io Allora No Parlare dei Peaceville Tree Ovviamente È Chiaramente Sono la Sono un po' La base Delle Delle sonorità Che poi Si parla anche Nel libro Fondamentalmente Perché anche loro Sono antecedenti Alla nascita Alla uscita Del primo album Final Do Considerate che io Sono arrivato Al metal Molto tardi Perché Appunto Io ho iniziato Ascoltando Proprio Pianatema In My Time Bride Paradise Lost The Cathedral E eccetera Perché fino appunto Fino ai miei Trent'anni circa Ho sempre ascoltato Progressive Tra virgolette Un certo tipo Di rock colto Tipo David Silvian Tanto per citare un nome E E poi mi sono E vabbè Poi io Ascoltavo anche Ovviamente La New Wave Cioè quindi Post Punk Cure Bauhaus Sisters of Mercy Poi Fields of Nephilim Quindi Sempre cose un po' Cupe Oscure Ma indubbiamente Nel metal Sono entrato Subito con questi Tre mostri sacri Partiamo dagli Anathema Gli anathema Probabilmente Agli inizi Sono quelli Che mi hanno Maggiormente Colpito Perché Serene Hades Ha un disco Splendido Porni alla sua Imperfezione Darren White Probabilmente Non era un grandissimo Cantante Però secondo me Era funzionalissimo Al loro sound The Silent Enigma Che arriva subito Dopo Ed è il primo Nel quale canta Vincent Kavanagh È un altro Grandissimo disco Ecco Dianathema Sono stati Dei camaleonti Da un disco all'altro Sono sempre cambiato Arrivando al picco Di Alternative Four Che è indubbiamente Un album Capolavoro Che ha segnato Probabilmente Anche Una buona fetta Di storia Della musica Contemporanea Però Sinceramente Prendo Judgment Ancora un bel disco Prendo A Fine Day to Exit Ancora un bel disco Poi per me Basta Però capite Dianathema Mi fermi a quello rosso Io mi fermo lì Ho ascoltato Ho ascoltato Weather Systems Che credo che sia il progetto Di Daniel L'ho trovato abbastanza Insipido Personalmente Quindi No Dianathema Per quanto mi riguarda Li Li finiscono Coi my day in grade Ho più un rapporto Come dire Di affetto Io li adoro Per quello che hanno significato Nella mia vita Perché Hanno segnato Dei momenti importanti Della mia esistenza E quindi Li amo A prescindere Anche Anche qui però Parliamo di una band Che ha dato il meglio All'inizio Arrivo anche qua Fino a Like Gods of the sun Ah bello indietro però Ah minchia Poi dopo È stato Tutta una serie Di ottimi dischi Cioè buoni dischi Ma non epocali Cioè io prendo I primi Fondamentalmente I primi I primi tre album Li ritengo Veramente Qualcosa di Importante Gli altri Sono sempre stati Un po' in Come direi In leggero Calo Dal punto di vista Dell'ispirazione Della qualità Fermo restando Che sono tutti Ottimi Incluso anche L'ultimo L'ultimo album Ha fatto discutere Molto Perché poi sapete Benissimo Che soprattutto Quando si Ci si aggira Nelle Pericolose Pagine Di facebook E nei commenti Viene fuori di tutto Vengono fuori Soprattutto Le tifoserie Perché torniamo Al discorso Del calcio Ormai noi Non ragioniamo Più come Persone Appassionate Di un qualcosa Ma come tifosi Quindi Una cosa O è pro O è contro E non c'è mai Una via di mezzo Una capacità Di discernere Di provare A dire Sì ok Questo disco Magari non sarà splendido Però Insomma Ancora un suo perché Cioè My Dime Bride O sono una band Di scoppiati Che non dovrebbero Più fare dischi O sono i maestri Indiscussi Che ogni volta Che scrivono una nota È un capolavoro No c'è una via di mezzo L'ultimo album Secondo me è valido Forse uno dei migliori Che hanno fatto Negli ultimi dieci anni Molti dicono Un album di maniera I My Day Brand Sono quelli Fanno la loro musica A parte il famoso episodio Di quello Il 37,888 Eccetera Complete Che era stato Un esperimento Poi abortito Quello 3-pop Quello con Delle influenze nette Del 3-pop Esatto Che era stato Un esperimento Poi abortito Poi hanno sempre Riprodotto Il loro sound E lo possono fare A testa alta Perché l'hanno inventato Loro Quindi a maggior ragione Chi può Chi può Abiettare In merito E di queste derive nuove Del progetto Un uomo di Aaron Che è un po' Il disco dei Paradise Lost Ho sentito Interessante Qualche brano Interessante Però niente Niente di Niente di Eccezionale Chiaramente Poi se Lo fai produrre Da Gregor McIntosh Puoi già capire Dove si va a parare Cioè È ovvio Quindi questi diventano Come i Paradise Lost Ai tempi di One Second Erano diventati I Depeche Lost O Paradise Mod A seconda di come li volevi chiamare E questi sono I My Dying Lost O I Paradise Bride Chiamali come vuoi E comunque alla fine È sempre È sempre un minestrone Anche se però Credo che in questo caso Aaron Centri soltanto Dal punto di vista vocale Perché è il Compositore Tale Tombs Che io Francamente non conoscevo Che comunque ha fatto Un buon lavoro Perché è un album Assolutamente godibile Però c'entra poco Dal mio punto di vista E arrivando ai Paradise Lost I Paradise Lost L'ho detto prima Che loro Praticamente hanno avuto Un loro perché Sono stati fondamentali Fino al Icon Direi No Draconian Times E poi One Second Francamente era ancora Accettabile Di Lost Non voglio parlare E Però sicuramente Anche loro Sono tornati Poi Sui loro passi Hanno fatto bene E quindi gli ultimi lavori Sono assolutamente validi E tra l'altro L'ho visto con piacere In buone condizioni Al Luppolo in Rock Quest'estate Mi hanno fatto Un buon Un buon concerto Rispetto a quello Che avevo visto Un po' d'anni fa Al Fenomena Mi sembrava anche Che Nick Holmes Fosse un po' più in palle Sì Anche io Confermo Anche noi L'abbiamo visto Un po' più in palle L'abbiamo visto Un brutto l'assolto Anni fa Mi sembra Che non è mai stato Un buon performer Ma non decisamente Un cantante Stradinario Dal punto di vista Performativo Insomma Vabbè Io dico la mia Invece sul capitolo Rapidamente Molto rapidamente Anche io Beh A te è piaciuto Dennis Weather System Giusto? Sì Non mi ha fatto Morire Ma mi è piaciuto Pareto Sì Ecco Io che sono anche Fan della deriva Quella più melodica Soprattutto Di Weather System Che ritengo Un album Bello Chiaramente È una cosa Completamente diversa Da quello Che hanno fatto In passato Ecco Il problema Il problema è che Daniel Non è Vincent Alla voce È un disco Del genere Ha bisogno Avrebbe bisogno Del supporto Di una voce Un po' più piena Un po' più Performante Come quella Di Vincent Che c'ha il progetto Su in uscita Che però Non mi ricordo Come The Radicant No The Radicant Qualcosa del genere The Radicant Ok I singoli Mi sembravano Un po' una poverata Devo dire la verità Sai che non Sai che mi mancano Ho capito Che direzione Cioè che direzione Ha Quindi ancora Non so bene Cosa aspettarmi Però vabbè Una poverata Io Sul mio tema Volevo aggiungere una cosa Secondo me Il loro motore Inizialmente Quello che probabilmente Ha anche scritto Le cose più importanti Alla fine però Era Duncan Patterson Eccola Ecco E E se noi poi Seguiamo Tutta la carriera Di Duncan Patterson Successivamente Fa capire molto Da dove arrivassero Certe sonorità Prima con la collaborazione Con Mick Moss Sfondando gli Antimatter E poi anche Quelli belli Finché c'è stato Patterson A me piacciono anche dopo Però Vediamo A me non più di tanto No Vabbè Vedi che abbiamo sempre Il bello Che appunto Ravere dei gusti differenti Ma a differenza Di quello Che succede Sui social Non ci sfanculiamo E non ne parliamo A breve di niente Perché questa È la differenza No vabbè Devi ringraziare il cielo Che non ti fosse andare Se no ti avrai già Mandato a fanculo Però vabbè Ma quello anche io È sempre stato Sicuramente Un buon motivo No Però vedi Parlandone Si riesce Si riesce A come dire A trovare una quadra Ognuno esprime La propria opinione Senza per forza Ledere diritti E dignità altrui Quando si scrive Le persone sono diventate Analfabete Probabilmente Non lo so Non sono più in grado Di scrivere In una maniera Che possa essere Compresa anche dagli altri E questo poi Crea molti contrasti E inutili liti Fondamentalmente Sì Però diciamo Tornando Ad esempio Ho molto apprezzato Il Grace Rod Di Patterson Uscito forse L'anno scorso Disco solista Molto bello Molto etereo Molto interessante E secondo me Lui è un artista notevole Probabilmente Lo ritengo anche superiore Ai due fratelli Però È un Ma la differenza Ai fratelli Gli ne frega niente Non gli ne frega Più di tanto Di avere grosse plate È uno da club Con la chitarra in mano Patterson Si è posto così Fin da subito Lui fa il suo dischillo Vende le sue copiette È contento così La sua dimensione È quella lì Sì Considera che tu Se vai sui suoi profili Sei la cosa che appare Maggiormente Lui è un maratoneta Quindi ci sono sempre Le sue performance È uno di quelli È uno di quelli Che è caduto In quella Sì esatto Nella deriva Nella deriva Del runner Vabbè Allora io vi chiedo L'ultima cosa E dopo passiamo Nella seconda parte Da puntata Che abbiamo Tommaso Che viene a parlare C'è gli Iron Maiden Adesso io ve la butto lì Ad entrambi Nella tua felpa E nel cuore di Stefano Sapete come è il meme Dov'è la Russia Dov'è la Finlandia C'è la Finlandia Allora Io Non lo so Se io devo pensare Ai paesi Scandinavi e non Perché è guai a dare Degli scandinavi Finlandesi Come ci hanno spiegato E la Finlandia È quella più propensa Ad un certo tipo Di tristezza Proprio ce l'ha Proprio Nel DNA Già Quando fanno Death Metal Ci sono delle verive Abbastanza tristi Di suo Poi c'è tutta la questione Che emerge Dalle sonorità tipiche Che fin dagli Amorafis è vista Insomma Anche quando sono arrabbiati I finlandesi Sono un po' tristi Io direi che lì C'è tantissimo Da pescare A di là dei Taggoton Ci sono comunque Suolo del San C'è un sacco di band Che hanno fatto Il loro percorso Dai Caccatemi Fatemi del name dropping Finlandese Di ciò che dovremmo No no Il name dropping Io non mi permetto Forse la cosa Che non ho detto Alla puntata precedente Ma in generale Quando si riflette Sulla Finlandia È che rispetto Alle due vicine di casa Che non sono Dello stesso Della stessa regione Perché non si può dire La Finlandia C'ha questa aggravante Che Parte a una Diciamo Confilate con la Russia Ma soprattutto È stato uno stato Molto povero Fino a Relativamente Poco tempo fa La Norvegia La Norvegia Ha trovato il petrolio La Svezia È sempre stata La sorella di mezzo Quindi probabilmente Questo legame Che hanno Io penso anche Ai film del mio regista preferito Che Aki Kaurismaki A quel modo di Intendere A una sua poetica Della tristezza Del vivere Questo tipo di sentimenti Che è tutto particolare Secondo me È dovuto anche A un Come dire Una storia Non così lontana Fatta comunque Di mezza povertà E disagio Che adesso Vabbè Hanno superato In maniera molto forte Passo la palla Stefano Per il name dropping Finlandese Vediamo se Anch'io trovo Qualche Di curico Chiaramente La Finlandia È La culla Del funeral doom Perché appunto Io Nella mia Ricostruzione Che poi è molto Personale Identifico lì La nascita Del sottogenere E Chiaramente Skeptici Shape of the Spare E venendo ai giorni Nostri Ci sono anche Altre band Molto interessanti Ci sono i tyranny Che probabilmente L'anno prossimo Saranno a Pinerolo Se non ricordo male Sì Sì Giusto E Vabbè Io Gli imprescindibili Colosseum E Gli Colosseum Sono anche Una band Che in qualche maniera Incarna Il Anche il disagio Che c'è Ovviamente In alcuni musicisti Che Che suonano Funeral doom Perché Il loro leader Io Palomecchi Si è anche Suicidato Quando aveva 30 24 anni Credo Ed è stato un peccato Tanto perché Si è suicidato Ma soprattutto Perché ci ha privato Forse del migliore musicista Funeral Finlandese E non solo E Chiaramente Questo fa capire Quanto Comunque Ci sia anche Del tormento interiore Da parte di chi Compone questa musica E qui arrivo Anche Alla felpa Che indosso io Suolo de San Questa è la felpa Che avevo comprato Quando I suolo de San Erano Venuti In quel di Romagnano Sesia Nel tour In cui suonavano Per intero The Morning Never Game Che è Assolutamente Un capolavoro Imprescindibile Da insegnare Delle scuole Da proiettare Nel cielo Certo Certamente E tutto sommato E tutto sommato Poi Era già Sintomatico Di un'anima Tormentata Però poi Dobbiamo considerare Tutto quello Che è successo A You Arrivedo Cioè Il compositore Principale Dei Sword and Sun La morte Di Alea Starbridge Che era la sua compagna Con la quale Aveva anche creato Quel meraviglioso Progetto Che era noi Dei Trace of Eternity Che è un disco Che vi consigliamo Attenzione Visto che qua Aspettate Che vi spariamo I nomi Ripetilo bene Trace of Eternity C'è un disco solo Ma è una roba Ecco Se uno non si commuove Sentendo un album Del genere Sapendo poi Che la povera Alea L'aveva registrato Sapendo già Che non sarebbe Durata molto Quindi Consideriamo anche Questo aspetto Se uno non si commuove Vuol dire Che ha il cuore Di pietra Perché è un album Veramente Eccezionale Ebbene Il buon You Ci ha messo molto Un po' Se non so Se si è ancora Riuscito A elaborare Il lutto Il solo Dei San Ho fatto appena Uscire un disco Che si intitola Shining E io l'ho ascoltato E lo trovo Oggettivamente Molto fiacco Mi dispiace dirlo Perché io li adoro E mentre il precedente Moonflowers Era un album Invece Che equilibrava Molto Come dire La loro La chiamo deriva Anche se si è Come termine Melodica Equilibrava molto La deriva melodica Con le sonorità Un po' più Robuste Del Death Doom E qui invece Proprio non ci siamo Ogni tanto C'è qualche parte Un pochettino più robusta Tanto Per far capire Ricordare Che bene o male Sono una band metal Ma francamente Ogni tanto Ci sono dei chorus Che sembrano buoni Per l'Euro Festival E non Non rappresenta Francamente Il livello Di una band Di questo tipo Vero che Uarai Vi ho dichiarato Che probabilmente Voleva Forse la sua Come dire Necessità di introspezione Era finita E quindi voleva Forse trovare Maggiore luce Anche nelle sue composizioni Allora traduco Per il nostro ampio Arriviamo al punto Eh scusami Aspetta un attimo Traduco per il vasto pubblico Che la sua necessità Di introspezione Era finita C'ho le bollette Da pagare Quasi 40 anni O vendo due lire Adesso O non le vendo più Prego Continua Stefano Vabbè Denis Se tu sei Troppo prosaico Mettiamola così Io cerco sempre Di trovare Una Come dire Una poetica diversa Esatto Una retrospettiva Una retrospettiva Più poetica Io vivo in un modo In cui due giorni fa Nicky Six ha detto Scusate Cioè Mick Mars sta male Non c'ha voglia di venire in tour Ma io devo fare a meno Di andare in tour E dopo ci siamo visti Il finale Anche del film Di The Dirt In cui ci sono loro quattro Che si abbracciano E vanno verso il palco Mandatevene tutti A fanculo Ecco E certo Tutto questo L'abbiamo visto Poi riferito Anche da chissà quante Altre band Esatto Inclusi anche Inclusi anche I nostri amati fratellini Gallagher Che di recente Sono rimessi assieme E ma lì Quando lì ci sono i soldi Veri in ballo Lì insomma Parliamo di un campionato Che insomma È un po' diverso No vabbè Però comunque diciamo Che ecco appunto Però in Finlandia Indubbiamente c'è molto Da ascoltare Perché abbiamo parlato De The Sun Sicuramente Ci sono Ottime band Death Doom Melodico Di Death Doom Melodico Tipo I Marianas Rest I Kaunis Kualematon Che cantano in finlandese Ma insomma Ormai non può più essere Un problema È l'idioma Che si utilizza Diciamo A livello vocale E Probabilmente Ne dimentico Anche Tante altre Inclusi anche Molti progetti Di funeral doom Più recenti Tipo Gli Ok Mord Eccetera O gli Orre Che sono anche validi Io cito Guarda Velocemente Cito Un paio di nomi Uno Bastanza strettamente Fiorno al Doom Che sono i Profetus Ah sì Scusami La voglio dimenticarti Eh vedi Vabbè Immaginavo E vabbè Il mio pezzo di cuore Va Ma chiaramente Qua siamo un attimino Più spostati Cioè veniamo Dal più Sul Doom Death Melodico I compianti Per me Compianti Ghost Brigade Ah sì Che per me Sono stati Una parentesi Notevole Poi ecco Flirtavano Flirtavano Con Insomma Anche sonorità Con gli ultimi dischi Un po' più moderni Un po' più Però Ho fatto Due o tre dischi Secondo me Veramente Incredibili Ecco Io concluderei Con un paio di nomi Che dico io E sempre In territori Abbastanza Doom Abbastanza tristi Dalla Finlandia Io consiglio Ovviamente Gli Deadman Ace Che nei primi Tre dischi Con il vecchio cantante Avevano fatto Del Death Doom Fatto come Dio Comanda Adesso sono un pelino Più melodici Con il nuovo cantante Ma soprattutto Gli Asford Elus Che è un gruppo Finlandese Che ha fatto un disco Molto vicino A primi Catatoni A primi Paradise Lost Come Dio Comanda Ecco Vabbè Stefano Ascolta Adesso Ti andrebbe Di discutere Di cose Più prosaiche E più mainstream Come Gli Iron Maiden E il concerto Che praticamente Te lo tirano dietro Sì Certo Certo Molto interessante Anche perché appunto Come vi dicevo Sono riduce Da un concerto Diciamo Di quelli Di massa In cui ovviamente I biglietti Non erano esattamente Regalati Quindi sono molto Interessato Alla Alla cosa Perfetto Allora Salutiamo Tommaso Che torna Torna da noi Torna Appena tornato Al viaggio di Vinoza Dai fa vedere l'anello Fa vedere l'anello Dai dai Caccia l'anello Caccia del ring Eccolo qua Perfetto Perfetto Come stai? Bene bene Stiamo ancora cercando Di smaltire Il fuso orario Cosa che non pensavo Servisse così tanto tempo Ma A parte quello Va tutto Va tutto alla grande Per ora Ok No parliamo di cose A noi ci piace anche Di tanto divagare E siete stati a Bali Giusto? Sì Siamo stati Sì Siamo stati a Bali E alle isole Gili Che sono la parte Diciamo un po' più turistica Dell'Indonesia Ma ne valsa comunque la pena E con A livello di stomaco Tutto a posto Perché so che Uno su due Ogni tanto ci lascia Come non le penne Ma chiaramente Deve fare una visitina All'ospedale Perché lì l'acqua Il ghiaccio Le cose Sono un po' Non ho avuto grossi problemi Se non il fatto Di aver mangiato Credo La zuppa Più disgustosa Che l'essere umano Abbia mai creato E diciamo Che ha avuto Il volta stomaco Non per l'acqua Ma perché Il sapore Di quei pomodori Che sembravano Orancidi Che me lo sognerò Ancora per qualche anno Quindi Ok Va bene Quindi Partiamo da Un argomento Insomma Disgustoso Per passare Forse un altro Argomento No Disgustoso No Abbiamo già accennato Andremo a parlare Perché Tommaso ci ha preparato Questa bella tabella Comparativa Con Diciamo Il rapporto Tra i prezzi Del concerto Del tour Degli Aromeden In Europa Rispetto a Appunto Il tenore di vita Eccetera Eccetera Adesso Riesci a condividerci Tutto quanto Quindi ecco Noi commentiamo Anche per chi ci ascolta E basta Che insomma È comunque una buona fetta Però chi vorrà Poi anche a livello video Può vedere qualche dato in più Ok Dovrebbe vedersi ora Allora Si sta a me Condividere la cosa Eccoci qua Allora È un bel Excel Riesci a zoomare un pochettino Giusto per Si assolutamente Così Ok Vai 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 Allora 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 Lì non c'è scritto Ma io credo Che il biglietto Agli Aromeden In rapporto Al tenore di vita Che c'è in Indonesia Ti compri un'isola Giusto sì? Tre Te ne compri tre Ok Molto probabilmente Visto quanto costa Lì La vita E il mangiare Credo che te ne compri tre Una ci fai la casa Una il paccheggio E l'altra ci metti i rifiuti Benissimo Esattamente Ok Esattamente Allora Ho cercato di fare Una piccola analisi Sui biglietti Degli Aromeden Cercando di prendere Dei biglietti Che erano dappertutto Cioè Il prezzo minore Con visibilità piena Il prezzo del prato Non golden pit E il prezzo Del famoso VIP package E fare un rapporto Con lo stipendio Medio Che le tabelle Online Ci dicono In più Ho cercato di capire Se questo Fantomatico golden pit Fosse una cosa Standard in giro Per l'Europa E da parte I paesi Della Scandinavia L'Italia E la Polonia Non esiste Da nessun'altra parte Quindi sono 5 su 18 Che hanno Il golden pit Questo fantomatico Golden pit Esattamente Quello che io Mi aspettavo Era Prezzi alti Nelle nazioni Con Alto valore Di retribuzione Media Mensile E il rapporto Invece Molto alto Per le nazioni Che hanno Un tenore di vita Molto più basso Perché ovviamente Minore stipendio I prezzi Me li aspettavo Più o meno simili E quindi La percentuale Di incidenza Era maggiore In realtà Le cose Non sono Proprio così C'è un'ampissima Forbice A partire Già Dal Minor prezzo Perché Già si vede L'Ungheria Per esempio Che 48 euro Quello che in Italia È 105 Ok Vabbè Loro c'hanno Orban Però dovranno In qualche modo Avere uno sfogo No Non è quello No Non credo Che Che siano direttamente Collegati Magari qualche effetto Domino Mentre in Svizzera È a 140 euro Il biglietto Con Minore Il minor biglietto Il prato Il prato Già siamo un pochettino Più Allineati Perché molte nazioni Si muovono Tra i 75 E i 90 euro La Svizzera Ovviamente Quindi Significa che il biglietto Che costa meno In Italia È uno dei peggio paesi È uno di quelli Che costa di più Perfetto Allora Per essere precisi Oh wow L'Italia È la seconda nazione Ad avere Il minor biglietto Al prezzo più alto Ok Quindi tu Vedi lo schermo Quindi tu Vedi lo schermo Pisci male Bevi una birra In due giorni Perché devi fare la fila Ma spendi comunque Un pacco di soldi Questo è in sostanza Assolutamente sì Quello sì Assolutamente sì Stesso discorso Sulla Sulla percentuale È quella del prato Non Golden Pit Dove l'Italia È nuovamente La seconda nazionale A avere il biglietto Più caro Dopo la Svizzera Ok Giusto per fare Un'idea Lo stipendio medio Riportato in Svizzera È circa 5.670 euro Mentre l'italiano È Se lo trovo 1.740 euro Ok Circa Però Siccome a noi Essere secondi Non ci piace Abbiamo deciso Con il VIP package Di calare L'asso di briscola Ed essere Il biglietto Più caro D'Europa E la cosa Che mi ha Spiazzato Ma Tanto È che in Italia Il VIP package Costa 480 euro Circa Adesso Aspetta un secondo Ma nel VIP package Ci danno anche Ci danno anche Le ceneri di Poldiano Divise in piccoli Contenitori Cosa fai Adesso vedo Cosa c'è Ti danno Una ristampa Del primo cd Con una parte Di ceneri Di Poldiano Molto probabilmente La cosa che mi ha Molto spiazzato È che Se in Italia Il pacchetto VIP È 480 euro Circa In Portogallo È 310 Cioè ci sono quasi 200 euro di differenza Cioè conviene Andare a Lisbona Prendersi un albergo Farsi il VIP package E puoi tornare indietro Però ci entri Mano nella mano Con Fernando Ribeiro Dei Muspel Che è Assolutamente È incluso Nel VIP package Esatto Perché tanto qua Insomma Regaliamo tutto Sto cercando di vedere Se trovo qualcosa Appena so qualcosa Su questo VIP package Vi dico di più Ma Va bene Puoi C'è una descrizione Prosegui Che dopo ci mettiamo A commentare Tutti insieme Poi per quel che riguarda Invece Le percentuali Più o meno L'andamento È quello che mi aspettavo Cioè Alta incidenza Per chi ha Una Un basso valore Di retribuzione Mensile Media Sul minor prezzo Noi siamo I migliori In assoluto Sul prato Diciamo Che siamo Da podio Mentre sul VIP package In questo caso Come percentuale Purtroppo Siamo medaglia di legno Cioè La Repubblica cieca La Polonia E l'Ungheria A livello di percentuali Eventuale In relazione Al Esatto In relazione Al reddito In relazione Al reddito Sono quelle In cui VIP package Incide di più Cioè L'Ungheria Incide per il 33% Circa Della retribuzione Della retribuzione Mensile Quindi tu ti fai Il VIP package E un terzo Dello stipendio Andato a puttane Esattamente Che è una cosa Comunque che trovo Ragionevole Ora però Scusami se ti interrompo Tommaso Ho davanti Il dettaglio Del Trooper VIP package Si chiama Trooper Allora vi dico Il pacchetto VIP include Un biglietto Appartenente a Settore Primo anello Gold numerato Per assistere Conciato Agli Aromaiden Punto esclamativo E fin qua E fin qua Di biglietto Te lo devono dare Non è che Sì non è che Poi devi prendere Pure il biglietto Parte Accesso VIP Al trooper Pre-show party Degli Aromaiden Che include Due punti Buffet Con stuzzichini E qua io vorrei sapere Di che stuzzichini Stiamo parlando Serviti Da Degli Stretton Che Doveva portare A casa Al mese Pover Allora Due token Per la birra Trooper Dove possibile Asterisco Vado all'asterisco La birra trooper Potrebbe essere Soggetta a disponibilità In base alle norme Dettate dalla venue E dalle leggi locali Di somministrazione Dell'alcol Quindi vabbè O due token Per drink generici Birra vino Soft drink Quindi due Due bevande Che Costeranno 7-8 euro All'uno 15 euro di roba Sì Sì Le trooper Beer Si costano Un po' di più Quella Quella che vendono Anche al supermercato Ogni tanto trovi Bar dedicato Che comunque Lo paghi Cioè non è che Il bar dedicato È gratis Photo boot Photo wall opportunity Ah ok Ci sarà Eddie C'è manichino di Eddie Con scritto Iron Maiden Dietro Ti metti Come la sedia Che c'era Villa Franca O la pecora Zombie Che ti fai la foto Il photobooth Sì 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 Posso Per fare la foto Partecipazione Alla strazione serale Per vincere Merchandise Memorabili Autografati Degli Iron Maiden Ok Bello Chissà con quanti Compete Un articolo VIP Del cinquantennale Degli Iron Maiden In edizione limitata In esclusiva Per i soliti Ospiti Trooper VIP Punto esclamativo Esclusiva VIP Trooper T-shirt Set di articoli Merchandise Trooper Che include Cordino E laminato VIP Trooper Ufficiali Biglietto Commemorativo Del concerto Poi c'è Attenzione L'opportunità Di fare Shopping Al banco Del merchandise Prima dello show Ok Mamma mia Cioè Puoi avere A disposizione Come se Steve Harris Non avesse stampato Tipo 40 milioni Di magliette Sì vabbè L'ultima cosa Assistenza da parte Dello staff Sul logo dell'evento E punto di ritiro Del merchandise Quindi Steve Harris Non lo vedi Manco da lontano Col binocolo Nel VIP No A te pare A te Mi faceva abbastanza Ridere La storia D'amministrazione Perché sembra Una roba Tipo Gratta e vinci Più che altro Potresti perdere Sì appunto Non lo perdi Sicuramente Hai già perso All'inizio Io parlo da genuano Come discorso Facciamo l'inizio Parto già perdente Però comunque Sì Mi fa abbastanza Ridere questa cosa In realtà A me la cosa Che sembra inconcepibile Di questo Trooper VIP package È che se tu Lo prendi Non hai il golden Non sei No Ce l'hai Ce l'hai No no Anello Però è il primo anello Golden Gold numerato Che non so se Adesso sia Il primo anello Ma ragazzi Tommaso Porta pazienza Ma se tu lo prendi E io qua cito E io qua cito duro Ormai L'hai già L'hai già preso Come dire E non te dico dove Perché so un signore Come diceva qualcuno Esatto Esatto Vabbè Senti Stefano Da fan di lunga data Da uno che va a concerti A tanti anni Che ti pare Di sta cosa qua Ma guarda Allora Io Dico la verità Negli ultimi anni Ho molto diradato La partecipazione Ad eventi Di grandi Diciamo Di grande richiamo Credo che Diciamo Negli ultimi Dieci anni Forse sono andato A un concerto Di Ramstein A Roma E a vedere Peter Gabriel L'anno scorso A Milano E quest'anno Andrò a vedere Nick Cave In tutti questi casi Ho speso Una barcata di soldi E da genovese Sapete benissimo Quanto siamo attaccati A questo A questo aspetto Ritengo però Anche qui divento io Prosaico O pragmatico Che dire si voglia Il discorso Della domanda Dell'offerta Cioè Se quindi Se qui si stabiliscono Questi prezzi È perché evidentemente C'è comunque qualcuno Che è disposto a comprare I biglietti A questi prezzi E di conseguenza I come dire Che organizza i concerti Fa il proprio Sporco lavoro Perché comunque Finché Ero Maiden Verranno a suonare In Italia E ci saranno persone Disposte a A fare Il Golden Vip Package Quello che cavolo è E Spendere una barcata Di soldi Questi continueranno Comunque A proporlo E Non c'è nulla da fare Il discorso Della domanda Dell'offerta È quello che fa Tutta la differenza Del mondo Io ritengo però Anche Penso sia il caso Anche di Puntualizzare un aspetto È anche vero Che qua Vediamo degli spettacoli Che sono di un livello Completamente diverso Rispetto a quelli Che vediamo Quando Assistiamo A mini festi O concerti Spot Di qualche band Dove magari Pagni i biglietti 25-30 euro Che per carità Non sono cifre alte Però È ovvio Che il tipo Di spettacolo Che si vede È completamente diverso Indubbiamente Paghi anche Il nome Paghi Tutto il carico Di professionalità E di storia Che si portano Dietro questi Grandi artisti Il discorso Che ha fatto Notare Tommaso Se non ho sbaglio In maniera In maniera Molto brillante È proprio Questa sproporzione Tra il costo Del biglietto E il tenore Di vita Delle varie nazioni Ma noi In Italia Siamo sempre In pole position Per quanto riguarda Fregature di questo genere Partiamo Se pensiamo A quello che costa La benzina Rispetto al resto Dell'Europa E tantissime altre cose Non vedo perché Non dovremmo essere fregati Anche per quanto riguarda I concetti Purtroppo È il nostro destino Non ci possiamo fare nulla O forse qualcosa Potremmo fare Però Evidentemente La maggior parte Delle persone Sta bene così In tutti i sensi E non ne faccio Un discorso politico Io sto facendo Un discorso Un discorso generalizzato Che poi addirittura Si può andare A focalizzare Anche nelle diverse aree Geografiche della nazione Ad esempio noi a Genova Abbiamo un costo della vita Che è esagerato Rispetto a altre parti Del paese Provate a venire a fare GPL a Genova Buona fortuna Si io l'ho fatto Quando sono venuto Metano Ma comunque è uguale È uguale Si Vabbè Tommaso Dai Dacci la tua opinione Da fans Adesso Allora Io Nella mia vita Di V-package Ne ho presi due Ok Uno per andare a vedere I Mastodon a Parigi E una Icoida in Cambria Qua a Bologna Dove incontrasti Sara Vic Dove ho conosciuto Sara Vic E dove tutto iniziò È un po' l'episodio 1 Del No è l'episodio 0 L'inizio Il principio Il prologo E se faccio il confronto Tra il prezzo E quello che ho avuto Come merch Conosci la band Quello che vuoi Cioè secondo me È un Pagare 500 euro E non conosci neanche la band E c'è pure un'estrazione Cioè a me sembra una cosa Fuori dal mondo Fuori dal mondo Cioè I Mastodon Se non erro Erano 80 euro Col meet and greet Ingresso anticipato Vedevi il soundcheck Poster Scaletta autografata Cioè c'è una marea di roba A un prezzo Molto normale Alla fine Perché in 80 euro Tu avevi tutto Adesso li vedi Mastodon Li vedi E basta Con un concerto normale Con 80 euro Sì Probabilmente sì In determinate condizioni Quindi Probabilmente sì Però Sì Poi un altro dato Che ho voluto vedere È Ma Visto che L'altra nazione Che Picchia coi biglietti È la svizzera Se io prendo Le percentuali Di incidenza Della svizzera E metto La retribuzione italiana Che prezzi Dovrebbero avere I biglietti Giusto per 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 vedere Il minore Dovrebbe essere 43 euro 50 euro Il pit E 135 euro Il Il V package Allora Allora Che c'è pure Bruce Dickinson Che viene a dati Asciugamano Ti asciuga lui A te È vero Non vorrei buttarla Però sono più complesse Però loro Nel loro stipendio Tipo è come l'Olanda Che non hanno L'assicurazione sanitaria Non hanno niente Dentro Eccetera Eccetera Cioè devono pagare Tutto Oltre E comunque Hanno comunque Uno stipendio Un tenore di vita Molto alto Sì È solo per fare Un confronto Di percentuali Per vedere L'altra nazione Con incidenza alta Come sarebbe Con la retribuzione italiana È Il fatto che Sia 480 euro Un vpack Cioè È troppo È troppo No ma Anche il cento Ma anche il 120 10 euro Cosa 100 euro Il visibilità limitata Quello è una roba Sì Anche Che non ha nessun senso Però Parliamo invece Chi è Aspetta Il percentuale Relazione anche Chi sono i paesi più virtuosi Dal punto di vista Anche in relazione Al reddito Allora L'impercentuale L'impercentuale Sono i paesi Con reddito maggiore Danimarca Svezia Svizzera In funzione Del Del pack Se è il biglietto minore Il prato Il VIP E Ungheria Repubblica cieca E Polonia Sono Quelle che assieme all'Italia Hanno l'incidenza maggiore Ok Ok Siamo Siamo dei un po' Mezzi intrusi Dentro Diciamo Questa Mitteleuropa Un po' così Però vabbè Allora Adesso io vi chiedo E così concludiamo Un intervento a testa Io do la mia opinione Dopo tocca a voi Adesso Lasciamo perdere I nudi dati Parliamo un po' Con il cuore in mano Cosa e come vedete Questa cosa qua Da un punto di vista Più idealistico Io vi dico la mia Io penso che Come tutte le congiunture Di mercato Come tutte le azioni Del mercato Si stia tirando La corda sempre di più Ad un certo punto Ci sarà un punto di rottura Non sappiamo più Quando è Come sarà E cosa succederà Però effettivamente Si rilanceranno i prezzi Sempre di più Finché a un certo punto Qualche tour Qualche grossa band Fatturera meno E allora si deciderà Di cambiare strada Non so quando avverrà Però è comunque Una corsa in accelerazione Che non si ferma Quindi questo Secondo me avverrà Non so altro Sto qua a guardare Da un punto di vista Strettamente ideale A me sta cosa qua Mi fa proprio incazzare Perché metà delle robe Che ad esempio Ci sono nel VIP package E nel VIP package Sono delle cose Che non sono cose Cioè il fatto che mi lasciano Andare al merchandise Prima degli altri Come se finissero le L Della maglietta Mi sento preso per il culo Cioè quella roba lì Non è Cioè solo con i boltrower Dovevi affrontarti A prendere il merchandise Perché finivano tutto Tra il 2010 E il 2015 Quando non suonavano quasi più E io l'ho visto In un paio di festival In cui la gente Però i boltrower Ti mettevano le felpe A 30 Io ho comprato La felpa di boltrower A 35 euro In Svizzera 7-8 anni fa In Svizzera Cristo Dio Ok Quindi c'era anche un motivo Però Mi sento un po' preso in giro Cioè Io non so se sono gli aromede Non so se schiacchi organizza A livello locale Che provano ad affrontare altre spese Non so se è il management Però non è un VIP package Quella roba lì Quella è una presa per il culo Almeno I kiss Ok Dopo mi taccio Quando il Gene Simmons Che Possiamo dirlo Che è proprio ebreo Dal punto di vista Più dispregiativo del termine Come si fa nelle vignette Perché Gene Simmons Con il simbolo del dollaro C'ha È proprio la vignetta Parodistica Gene Simmons E l'ha sempre fatto volutamente E La foto te la facevi Con i kiss Ovviamente Non potevi toccarli Stavano dietro di te Però pagavi un botto di soldi Ma Facevano dei meet and greet Veri Ok Ti stavi 3 minuti Davanti a Gene Simmons Che ti faceva la linguaccia E dopo svenivi E andavi via Ma cos'è sta roba qua Cioè E stiamo comunque Parlando dei kiss Che sono industria da soldi Ok E l'hanno sempre detto Cos'è sta roba qua ragazzi Cos'è Tocca a voi Vado io Così Faccio concludere Voi che siete più sul pezzo E mi riallaccio Con quello che hai detto Denis Ci dimentichiamo Troppo spesso Che noi viviamo in un mondo Dove c'è della gente Che paga più di soldi Per vedere le foto Dei piedi Di una persona E quindi Non ci possiamo meravigliare Poi più di tanto Se qualcuno Decide di lasciare Un terzo del proprio stipendio Per Per nulla Perché poi comunque Ci sono anche Degli appassionati Che arrivano quasi A livello di feticismo A proposito dei piedi Che sono disposti A qualsiasi cosa Per seguire le band Che chiamano Io C'è una Una conoscente Della mia compagna Ha seguito In tutte le date europee Tutto il tour L'ultimo tour Di Bruce Springsteen Capite Cioè il livello Di follia Che può raggiungere Una persona Perché posso capire Che un artista Ti piaccia Ma andarlo a vedere Tutte le sere Probabilmente facendo Non dico la stessa scaletta Ma quasi Cioè è veramente Una follia Cioè tu lo segui Passo passo Vuol dire che Chiaramente hai dei soldi Da spendere E partiamo da questo presupposto Però ripeto Non Sarà perché sono Un po' più vecchio di voi E quindi Non mi meraviglio più di nulla Ecco Mettiamola così Credo che E auspico Come comunque sosteneva Denis Che questa bolla Prima o poi esploda E si torni realmente A A dei prezzi Più ragionevoli Soprattutto in funzione Anche appunto Della realtà Economica Del nostro paese Però non sono così certo Non sono così certo Che avvenga Soprattutto in tempi brevi Proprio perché Finché ci sarà Comunque Una Domanda Che risponde all'offerta Nessuno avrà L'interesse A farlo E finché ci sarà gente Che comunque è disposta A comunque A fare un qualcosa Perché L'esempio che faceva Tommaso prima Dei Mastodon Parliamo anche di band Che all'epoca Non avevano lo stesso Parlo dei Mastodon Dell'epoca I coi del Cambria Men che meno Che hanno lo stesso nome Lo stesso Lo stesso appeal La stessa base Di 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 fans Adoranti Che possono avere L'ironmaid I kiss Eccetera Eccetera E' completamente diverso Lì Lì arriviamo Proprio appunto A A una forma Di idolatria La definirei Che va Ben oltre E che probabilmente Spinge le persone A spendere delle cifre Improbabili Per cui poi Magari saranno costretti A tirare la cinghia Per i mesi successivi Per provare a recuperare I soldi spesi Non ho una risposta Dico soltanto Che comunque Sarebbe molto meglio Che le persone Tutti gli appassionati Andassero anche a seguire Concerti minori Che spesso e volentieri Sono deserti E qui entro Nel genere Che conosco io Secondo voi Vedere i festival Funeral Doom Death Doom Comunque Doom In genere Sono ben poco Frequentati Anche in grandi città Come Milano E un'eccezione È giusto il festival Di Pinerolo Ma perché lì Comunque L'organizzatore Valerio Stabilisce che Più di 100 persone Nella chiesa sconsacrata Non ci possano stare Di conseguenza Si svolge Si svolge in quella maniera Tu hai il sold out Il numero è quello Però non è che se anche ci fosse un numero aperto Potrebbero esserci molti più presenti Credo che noi come appassionati di metal Dovremmo essere un po' più presenti Ai concerti Un po' più underground E magari risparmiare qualche soldino E non accorrere in massa invece In quelli che sono diventati Dei veri e propri eventi mainstream Eh dai Poi vado io Così poi faccio chiudere Tommaso Che è stato gentile Sì ecco Ripeto Siamo sempre giocando un campionato un po' diverso Con questo tipo di band Cioè le sentiamo nostre Perché le sentiamo nostre Perché ci siamo cresciuti Ascoltando gli Aromedeni Kiss Motley Crue Gli Aerosmith O chi O chi per essi Però Non fanno E non hanno quasi mai fatto il campionato Quello di cui parliamo noi Quando ascoltiamo appunto le band metal Parliamo di underground Parliamo di localini Parliamo di queste cose qui Vero anche che Sì insomma Quello che paghi Dovresti comunque avere in proporzione Io non so cosa Bisogna Cioè sarebbe ancora più interessante Ma meno Meno a tema Riuscire a capire Quanto il VIP package Di che cacchio ne so Taylor Swift Di Madonna O Di Di Bruce Springsteen Cosa ti danno E a che prezzo Per capire se Se gli Aromedeni Solo Il rapporto uno a uno Con questo tipo di artisti E con questo tipo di audience E con questo tipo di ragionamenti economici Oppure magari no Questo magari mi incuriosisce Non è detto che Poi non costringiamo il povero Tommaso A fare Una tobella comparativa Tra le peggio cose Il nostro amato metal Però insomma Vediamo Cosa Cosa ne potrebbe venire fuori Vai Tommaso Allora Secondo me Sti prezzi Sono legati a vari fattori Uno Che alcune band Più sono grosse Più Meno si è fan Ma più si è parte di un culto Quasi Cioè Una band Diventa Quasi uno stile di vita Personalmente Ho visto Fan degli Iron Maiden Prendere dei sassi Da tirare a una band E dopo che hanno scoperto Che ci suonava Il figlio di Bruce Dickinson Andarsi a comprare CD maglietta felpa Poi C'è un discorso Che Tu fai il prezzo Perché sai che qualcuno Li spende Quindi secondo me Non dico Nel giro di un paio d'anni Ma nel giro di una decina Il VIP package Di una band metal Da Mille euro Ci arriverà Senza grossi problemi In più Secondo me C'è un problema Più culturale In generale Cioè che il concerto In generale La musica Viene vista come un lusso E non come arte Quindi Andare a un concerto E spendere 500 euro È una cosa normale Come andarsi a una mostra E comprarsi un quadro Da tenersi in casa A livello di Punto di vista Per molte persone È la stessa cosa Quindi Se tu vuoi andarti a vedere Una band Grossa E vuoi vivere Un'esperienza Grossa Legata a quella band È un po' come andare In una mostra E comprarti un Picasso Devi pagare Perché tu sei La persona Che se lo può permettere E sei La persona E il fan Che non vede l'ora Di poter raccontare Quell'esperienza Come che ha un Picasso In casa Non vede l'ora Di fartelo vedere Non è male Come disamina In effetti Ci fa pensare Che probabilmente Dovremmo fare Anche un'indagine Sociologica Per cercare di capire Questi tipi di fenomeni Beh certo Tutto è collegato Quindi tu Dennis Sei il più Punk Della situazione Di noi E noi Diciamo Basta Cadiamoci pure Questo è Questo è quanto Vedremo se poi succederà Qualcosa In un prossimo futuro Per ora La curva È sempre abbastanza In salita Vediamo Fin dove può Fin dove può Spingersi Al netto Che ripeto Secondo me Parlo a nome Di tutti e quattro Anche se Tommaso Hai vissuto Esperienze da VIP Hai un tipo Magari Hai un modo Di essere fan Che è diverso Dal nostro Parliamo di tipo Di esperienza Che a noi Non ci appartiene Quasi per niente Come tipologia Concludo Dicendo una cosa Perché mi sono Infervorato Ed è giusto Non darla per scontata Quando io ho fatto Determinate Terminologie Riferite a Jim Simons Sappiate che Jim Simons È Ebreo Di religione E stiamo parlando Dell'uomo Che ha denunciato King Diamond Per copyright Del trucco E che ha tentato Di farsi dare Il copyright Assoluto Sulle maschere Di Kiss Venendo poi Smentito Da un tribunale Se non mi ricordo male Dicendo che Guarda che nel teatro Kabuki Ci stanno una quarta O cinquecento anni Quelle cose lì E adesso Quello non adatta Non lo so Ed è il caso Che la smetti Jim Simons Ha sempre messo I Kiss Davanti a tutto Come macchina Da soldi Ed è stato un gioco Che negli anni E nel secolo E nei decenni I fan accettavano Con la Kissarmi Quindi è uno Che non ha mai Nascosto Che lui lo fa Per i soldi Ok Diventando quasi Lo stereotipo Di se stesso Io mi limito A questo Che non venga Fuori Esatto E tu No No Per carità Infatti mi sembra Un'ottima strategia Farsi nemico Sia Era giusto Era giusto Che il mio flusso Di pensieri Forse Concluso Perché meno sappiate Da dove viene Sta cosa E credo Perché le ho viste Esistevano Negli anni Ottanta Le vignette Di Jim Simons Messo al posto Dei Degli ebrei Nei poster Propagandistici Russi E della Germania Appunto Perché i Kiss Hanno sempre Tentato di farci Un sacco di soldi Sui fan Devo trovarla sta cosa Ok Perfetto Vabbè basta Direi che Abbiamo detto Tutto Io ringrazio Tommaso E soprattutto Stefano Per essere Stati ospiti Di questa puntata Spero che sia stato Di gradimento Anche questo split Di argomenti Che sarà comunque Molto interessante Grazie Grazie a voi È stato veramente Un piacere Grazie a voi Grazie per l'opportunità Che mi avete dato Di parlare Del mio Del mio Umile libro Speriamo che qualcuno Lo legga Adesso ci facciamo Sentire la tsunami Nei prossimi 15 giorni Vediamo il picco Di vendite Esatto Chiediamo se Riusciamo a influenzare Qualcosa Il mercato Come fanno Gli Aromade Non credo Non credo Speriamo di dare Una piccola Una piccola mano Ciao Stefano Ciao Tommaso Ciao Denis Ciao 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 Buon di anno, buon di anno, buon di anno contro i lachè Misoneista, qualche bene in vista, anche tipo me, da un paschino